Ciao a tutti cari allievi, spero stiate bene e dato che è un po' di tempo che non ci vediamo ho deciso di registrare questo video in cui ripasseremo alcuni dei concetti che abbiamo visto durante le lezioni. Quindi partendo proprio dalle basi abbiamo l'impugnatura, la prima cosa, come teniamo in mano la bacchetta. Se vi ricordate la bacchetta a due estremità ha una punta e ha una parte posteriore, un retro. Noi di solito colpiamo con la punta, quindi è importante che quando colpiamo la bacchetta non faccia solo questo tipo di movimento ma abbia la libertà di muoversi. In questo modo quando la punta scende la parte posteriore sale e quando la parte posteriore scende la punta sale. questa cosa dobbiamo ricordarcela bene. Quindi dove teniamo la bacchetta e con che dita? Nella posizione francese che è quella che andremo a vedere oggi. La bacchetta si terrà con pollice e indice esattamente nel punto che si chiama balance point, cioè il punto di equilibrio della bacchetta, quello che ci permette di non avere né troppo peso davanti né troppo peso indietro. Quindi un punto intermedio. Lo potete trovare anche senza appoggiare la bacchetta da nessuna parte lasciando la sospesa come in questo caso e andare a vedere che cosa succede spostandola. Quindi come prima cosa proviamo a fare questo, a spostare la nostra bacchetta per vedere che cosa succede al suo equilibrio. se io la sposto troppo avanti o troppo indietro rispetto a questo punto, succede che o la punta mi cade perché c'è troppo peso da questa parte, oppure la punta mi sale su e quindi cade in retro perché c'è troppo peso indietro. Quindi questo punto è molto importante da riconoscere perché quando andremo fra un attimo a effettuare dei colpi, delle note sulla batteria, dobbiamo tenere ben presente che il ritorno della bacchetta con il rimbalzo sia equilibrato. Cioè non ci faccia fare né troppa fatica in un senso, quindi con troppo peso, né nell'altro, quindi senza abbastanza peso. Ora che siamo sul tamburo possiamo iniziare a fare il primo esercizio, primo gioco anche, che è quello dei rimbalzi. Se vi ricordate vi ho sempre fatto giocare con la pallina, sia ai ragazzi più grandi, sia a quelli più piccini. Ricordatevi di tenere il polso rilassato e far rimbalzare la pallina in maniera naturale. In questo modo possiamo avere fluidità e un movimento leggero senza sforzo. Quindi come prima cosa, prima di fare gli esercizi con le bacchette, prendete in mano la pallina e giocate un po'. Potete rimbalzare sul rullante, sugli altri tamburi, sui piatti, perché no? Però è difficile. Quindi con le bacchette che cosa facciamo? Nella posizione francese che è quella con il pollice rivolto verso l'alto, in cui la bacchetta appoggia sostanzialmente sull'indice e il pollice la governa permettendo di muoversi su e giù. Che cosa notate? Che il retro della bacchetta può scendere e la punta salire e viceversa che se il retro sale la punta scende. Quindi il primo esercizio dei rimbalzi lo faremo proprio in questo modo. Notate che la punta arriva sempre verso l'alto, quindi torna in su e si muove insieme alla bacchetta il polso e le dita rimangono belle compatte tutte insieme seguendo e assecondando il movimento della bacchetta. Questo è importante perché così facendo possiamo accettare il rimbalzo, altrimenti così sono io che porto giù e porto sulla bacchetta senza lasciarla rimbalzare. Quello che vogliamo cercare di sviluppare in questa lezione è invece il rimbalzo. Per cui dobbiamo mollare la presa, far sì che la punta cada verso il basso e da questa posizione riportarla su e farla cadere riportandola su. Se vi ricordate la forza di gravità funziona anche nel mondo della batteria. Quindi da una posizione in cui la punta è rivolta verso l'alto io semplicemente lascerò cadere e poi riporterò su. In questo modo. Lo facciamo insieme un po' di volte. Questo esercizio va fatto in quattro modi diversi. Il primo modo è solo con la mano destra, il secondo è solo con la mano sinistra, il terzo è con entrambe le mani insieme, il quarto è prima una mano e poi l'altra, quindi prima la destra e poi la sinistra e il quinto è prima la sinistra e poi la destra. Dopo che avete praticato tutte queste cinque modalità potete mischiarle fra di loro e improvvisare sullo strumento utilizzando il concetto del rimbalzo, quindi mantenendo una fluidità e lasciando la bacchetta libera di muoversi. Ora vi farò un esempio. un esempio. Un esempio. un esempio. S 아니ò. Un 애 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E spero di vedervi presto. Un abbraccio. Ciao.